amici sportivi bentornati in un nuovo episodio di crash royale no che passione no ignoranza crash crash baish signori sulle note di maish roman andiamo a spacchettare grazie pro player caparezza e mister waffle per i gigantoni il lucatoni gigantoni dammi una volta tre carte non prende più signori dai 84 no no ti faccio apri il dorone 80 di oro e basta la valchire di merda a me ma che commedia apri qui apri qui no qua lo devi aprire qua dove cazzo lo so qua in mano mia bomba io l'epica 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 furia a cavallo del west che beve solo caffè non è il tuo mazzo no non è nessuno di questi e che mi vuoi scioppa le gemme bastardissimo toni chiede il gigantoni giustamente signori passiamo ad un altro profilo passiamo ad un altro profilo e quanta profili di pari il profitero non diciamo bentornati signori amici sportivi eccoci passati al profilo mio secondo di caparezza andiamo a spacchettare i barili sta registrati ora cannone del divertimento si con sta canzone in sottofondo oh nai nooo oh quando mi esce una carta fammi apri a me che tu non ci sei fa guarda la leggendaria qua quando mi esce una carta tu la apri ancora tu apro ancora io due uno e gigante buono 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 le frecce niente il calzo il calzo che ti fai certo certo che parteciperete signori però un'entrata è gratis quindi l'altro quanto costa eh signori entrate eh cambia cambia sarai entrate nel mio calan e faremo eventi speciali oh che maledetto guarda mi premi qua sopra però fa paura fa paura vabbè quindi è per Halloween comunque è scriptato lo stesso però signori entrate nel mio calan che faremo eventi eventi faremo 20 eventi 20 eventi faremo molto importanti passiamo e non ne trovo una fregna passiamo al prossimo profilo consigliatemi delle radio consigliatemi delle radio no dei mazzi delle radio signori come vedete la novità questa è la grande novità che vi avevo annunciato Tony a questo la sua fantasia con Mobyzen no vi avevo annunciato una grande sorpresa per questo profilo eccola qua è arrivata è arrivata come vedete il profilo di Tony con Mobyzen signori wow ho due d'oro ho due d'oro signori questa è una grande novità noi siamo ignoranti noi siamo ignoranti oh che gigantone arena 6 oh la sbirra 15 carte 15 carte ancora da vedere ciò hai visto che mazzo signore signora fammi vedere signora andiamo a spacchettare questi badigli dacci non lo so che cosa si divida dacci sordi 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 bravissima fai un gameplay un play camp oh e l'apri piano l'apri piano è l'abitudine la fornace la fornace chi mi ha donato Paolo bravo Paolo però vuole fare l'amiche questa è donato perché vorrei fare l'amiche e dai facciamo una cosa ho anche due letterine vinci una battaglia e vinci cinque battaglie bravo buono buono signori facciamo una bellissima cosa sblocchiamo la corona a questo profilo prema la corona giustamente facciamo una partita no 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 controlla la batteria però controlla la batteria cara eh non si controlla eh eh settantate vai via allora incominciamo con la strecca questa è una strecca malefica buono buono ricordiamo livello 6 buono buono eppure 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 consigliateci canzoni ignoranti consigliateci consigliateci canzoni ignoranti ignoranti da mettere nei videi signori nei video nei video nei videi video perché sono tanti plurale plurale plurali plurale murale prurito irritazione ma che è? ora io ciao ma radiamo la risa eh? che canzone sottofondo che ci sta? oh metti la strega di là difendere ti ragione però questo è un mestiere mio ma stiamo a posto allora quanto sei dai metti metti e vaffanculo ti ripetra guarda quanti scheletrine guarda quanti scheletrine guarda quanti danni mannaggia la puttana macchina di merda il primo amore il primo amore si capite? sticca vigna figlio che gioia sticca vigna gioannino e e gioannino e gioannino non mi veniva niente mannaggia dai la buffa guarda gli studio perlomeno abbassa solo me nevo per la città eh ci sono andato veramente brutale contro la strega no ma non devi fare una canzone no non devi fare crazy ma guarda che zinchione era la pubblicità fanculo a sta radio di merda fanculo ciccione guarda quanta vita c'ha la strega oddio oddio ma che mi metto la palla di fuoco la palla di fuoco la palla di fuoco che cazzo ne so ipocrita boom mamma mia Rion guarda quanti mi dice oddio 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 è una leggenda una leggenda narrante stang eh vaffanculo ancora me la pia ma porco porco di quel cane eh se ho perso è per colpa della connessione su quale base metti quello là su quale base eh sulla base di quella base sulla base per altri la base al quadrato stang no ma fottuto usare troppo in difesa ma fottuto 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 vabbè deve fare la corona signori eh ma porca puttana ma devi fare la corona o no? sì ma lo devi usare in difesa quello no no mare 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 questo mi piace che son venuto qua due pallotte di fuoco se non ci sei tu tan tan questo era tutto calcolato per la corona guardate ragazzuoli bravo Rion e non mi fare l'applauso sarcastico no è un applauso vero mandateci un applauso vero per me è un applauso sentito contro procurato me lo sono procurato no vabbè questa vittoria basta basta ragazzi metto in pausa il video perché se no esce troppo lungo ci vediamo ci vediamo a corona sbloccata signori io avevo detto che dovevo sbloccare la corona e allora prima di farvi vedere la corona vi voglio far vedere i livelli delle carte e il mazzo con cui sto giocando 3 5 le comuni 3 la palla di fuoco cioè io sto giocando con una palla di fuoco che toglie 390 sto giocando con un gigante che c'ha 2500 di punti ferita sto giocando vabbè la strega è l'unica carta buona alta diciamo che c'ho alta tra virgolette ho sbloccato la corona guardate qua livello 6 livello delle epiche al 3 livello delle rare al 3 praticamente arena 7 signori io penso che questo sia un record che detengo solo io nel mondo penso ho detto penso attenzione non ho detto niente livello 6 di mio livello 3 cioè io sto giocando con una capanna al 3 con la palla di fuoco al 3 con queste normali al 5 raga non so se mi state a capire ovviamente qua mi ha dato l'offerta speciale baule super magico di arena 7 perfetto 10 euro ma ti puoi stare qua andiamo a spacchettare questa cosa sicuramente ora ricalerò però la prima corona storica dell'arena 7 tutte carte tutte carte normali manca una carta di arena 7 ma va bene così a breve a breve una nuova leggendaria a breve pure una nuova carta qua ok ok va bene cioè guardate signori se io vado le carte e metto per arena guardate le carte che mi mancano dell'arena cioè dell'arena dove sto adesso mi mancano 4 8 12 16 18 18 carte praticamente mi mancano 18 carte che potrei trovare il tempo che sta finendo perché ho 5 versioni di batteria iscrivetevi commentate condividete se non si tengono iscritti lasciate like e noi ci vediamo domani ciao agliù